bitti bitti quest'anno che fa? ti premio? aspetta mi sposto se no c'è la luce in faccia non ti vedo oh così speriamo quest'anno quest'anno fai il pendolare Sardegna Toscana? sì l'anno scorso quant'era vinta? l'anno scorso è andata bene andava bene ora te l'avevo piazzati sempre con chi ci vai a correre in Sardegna? c'era là il cavallo ma la tratta si fa quest'anno come speriamo che dice il capo che dice il capo e i proprietari va bene ti seguiremo ti seguiremo mi fa piacere ciao e buca al lupo creepy